Scusate, siamo con Giuseppe Caribaldi, un pronostico Italia-Germania per gli europei, quarti di finale. Ma io a questo punto direi un secco 2-0 per l'Italia, minimo, minimo, sempre viva l'Italia, perché la Germania si è messa in testa da prendere il caffè espresso, invece l'espresso gli va per traverso, perché noi gli facciamo il caffè napoletano, alla napoletana gli facciamo e romano, perciò 2-0 non ce ne leva nessuno e naturalmente io come rappresentante dell'Italia è chiaro che viva l'Italia, sempre viva l'Italia, 2-0, sempre.